Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video Se sono qui a dirvi oggi che odio quei due sul server E' perchè ho giocato al loro nuovo gioco Lascia stare Senti che è sta cosa? Ho capito ma ho scaricato il gioco Ma io non lo so Vai start game Quei due bastardi sul server Vabbò Allora siamo qua con il sinergo E salti C'è pure gli insulti incorporati No così non devi manco farli te Come si sta? R Va così Va così Ah si può che mi ricomandi Perchè io ho già sbaglio Metto spazio per saltare Allora no Ah va che te Madonna Eh Perché non salti? Perché non salti? Oh mamma mia non salta Alleluia Reddits Double W Cioè se prendi due volte W fa il doppio giallo Perchè cadi? Ah qua non salto vaffanculo Premi spazio per cambiare giocatore Ok Double A o doppia D per fare dash Ok E' la cat ma 3 minuti che gioco sto gioco 3 minuti Già c'ho le palle più Oh madonna No al primo livello devo finirlo Fotte sega No 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 Qua siamo troppo Potenti veramente Eh Eh Ah si In quattro minuti Non voglio più giocare a sta roba Perchè Devo ancora E' il primo livello Perchè ci sono delle cacche in alto Ma vaffanculo Alleluia Ok Non l'ho toccato Bug Non l'ho toccato Mamma non l'ho toccato Giuro Guarda un po' te Ma io non lo so Ma vaffanculo a te E' a tua mamma Ma io non l'ho toccato Ma io non l'ho toccato Ma io non l'ho toccato La pregna di mamma Vaffanculo Ah vaffanculo Ce l'ho fatta Troppo facile No vaffanculo Perché Ma perché Mortacci de cat Mario Ah Mamma Ma vaffanculo Primo livello Devo farlo Uno non c'è Non c'è fatto No no Calma Ma vaffanculo C'è lo devo fare Reded Sinergo Vaffanculo Ma proprio col cuore Ma vaffanculo E' bugato E' bugato Reded Sinergo Non sapete programmare Non sapete programmare E se lo avete programmato voi Chi l'ha programmato Non sa programmare Ma vaffanculo Quante volte 33 morti Ma si Eh a fregna di male Tua mamma Con tutto rispetto Ma a colla di tua mamma Ma perché Perché Basta Ce lo devo fare Oh madonna Ma vaffanculo Sì 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 Sacrifichiamo Quei due sui sei Per la satana Bene Eh ma porco Eh suca Ok non è super mario Abbiamo capito Posso andare sopra What the fuck Eh ma sei stronzo Allora Ah devo usare il dash Anzi no faccio Ma vaffanculo Eh vaffanculo Pure a te Non bastava Non bastava Ah Muori Ma che cazzo Era quello Non hai mani mortacci Tua però Eh Ma che storia Vaffanculo Mannaggia il cazzo Al cazzo Di tua mamma Perché a volte Funzioni A volte No Piccazzo Tasta di merda Ok Ho capito Ma perché Perché a quella Cagna Di tua sorella Non salta Non salta Lui Ma Ma vaffanculo A te A mamma Da sore Da padre Da nonno Da tutti Tutta la famiglia Tutti insieme Allegrami Salta Mannaggia Ecco Avvio Avvio di assistente Vocale In corso Che cazzo sta succedendo Cosa è successo Ma non lo voglio L'assistenza vocale Dell'assistente vocale Ma ti trovi Ma ti trovi Ma ti trovi Ah vaffanculo Ah vaffanculo Oh vedi che si stacca quello checkpoint madaffacca a caso a caso ahah ma perché non solti ma vaffanculo puoi del secondo però ma che sei stronzo ma forte però ma vaffanculo a te la spazioatrice non potrei mettere shift per cambiare il cazzo di personaggio 94 arriviamo a 100 vai ma ma si moriamo come degli ebeti imbecilli checkpoint checkpoint madaffacca checkpoint ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo ho una merdina ma io che c'è ma devo andare con il sinergo ho capito questo è proprio stile cat mario ma ero su uno gradino più in basso quella mortanaccia di tua mamma ma vaffanculo ma vaffanculo però eh ma vaffan bene che mi ammazzano uh ho trovato il glitch madonna da questo ma fotte sega ah ma ti posso anche spostare ah è un troll dada date che un troll me ne fotto altamente e dai mortacci tua però oh 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 la fregna di mamma oh 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 ah Sì ma se si drogano allora quotesever io avevo i miei dubbi che voi vi drogaste ora non ce li ho più un gioco di questo tipo penso sia illegale in 19 paesi diversi si dovevo aspettare qualcosa no no eh no però sei stronzo ma sei tanto stronzo sii vaffanculo quello sul server cazzo mi ci sono volute una cosa tipo 130 vite per fare il primo livello di questo gioco il primo livello reddits sinergo col cuore ma vaffanculo se volete altri giochi stronzi sul mio canale sarà meglio se arriviamo tipo a 5 mila mi piace se no mi spacco il culo ciao a tutti mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace